La regolamentazione del mercato del lavoro continua a colpire le donne in quanto soggetti che sono da sempre più precari e disposti degli altri. Le politiche di Italia al welfare e servizio aumentano il lavoro da svolgere fra le mure domestiche, un lavoro che continua a essere soprattutto a carico delle donne. Le politiche di austerity fanno di noi l'amortizzatore sociale di questa crisi. Siamo sempre più precarie, sempre più flessibili. Siamo legati a doppio filo con questo modello di famiglia tradizionale, dal quale è sempre più difficile emanciparsi. E la crisi che ci priva delle risorse e dell'autonomia necessarie a determinarci liberamente. Contemporaneamente in tutta Europa crescono gli attacchi alla libertà di scelta sulla maternità, sulla sessualità, sulla salute delle donne. Sappiamo che in Spagna la proposta di legge Gaia Ardon rende nuovamente l'amorto un reato e affida la decisione su di arresto esclusivamente ai medici. Ma anche in Italia il movimento per la vita continua a farsi in strada nei consultori, nelle scuole, negli ospedali. E i primanti di laboratoria di tutto questo è il laboratorio di un modello di sanità che è basato sui tabu, è basato sui personale che è qualificato e volontario, è basato sulle prime distanzioni. Sì, sono pazzi di tutti ieri di casa, sono pazzi di tutti ieri di casa, sono pazzi di tutti ieri che li affamano, che ce ne spingono e che li controllano. E allora mi sento di oggi sentendo in casa, è una giornata che è in prima di questa nostra, è una giornata che è in prima di questa nostra. violenza sulle donne che vuoi che sia, in Varsusa la fa la polizia, le donne in Varsusa si danno da fare, sappiamo fuggire ma anche tagliare, le reti non è reato, la donna partisana me l'ha insegnato. Grazie.